Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rende e l'affidamento della gestione del Comune per la durata di 18 mesi ad una commissione straordinaria. Dopo il coinvolgimento dell'ex sindaco Marcello Manna e dell'ex assessore ai lavori pubblici Pino Munno nell'operazione Reset, condotta dalla DDA di Catanzaro, arriva così l'epilogo per tutta l'amministrazione comunale rendese. Un provvedimento questo stabilito a seguito del lavoro condotto dalla commissione, composta dal prefetto Antonio Repucci, dal vicequestore aggiunto Giuseppe Zanfini e dal tenente colonnello dei Carabinieri Dario Pini. La documentazione, già posta al vaglio del prefetto di Cosenza, Vittoria Ceramella, è stata inviata al biminale. Il Ministro Piantedosi, dopo mesi di valutazione, ha così richiesto la fine dell'esecutivo Manna.